è friabile? voglio vedere andare a sciogliere non sembra, ma c'è un baselino lì, eh, qui, che bellissimo mi piace per un piaccio, non mi piace per niente non mi piace è a sinistra sotto la spaletta non mi piace, non mi piace, non mi piace il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Allora Allora No, fai un giro che tiene Allora Allora Sì Sieg Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.